il viaggio di dante nel paradiso non è soltanto nello spazio attraverso i nove cieli e poi nell'imperio ma anche un viaggio nel tempo verso il punto centrale della storia ovvero verso l'incarnazione il momento in cui il mistero si è fatto carne e probabilmente anche un viaggio verso il punto zero in cui è nato tutto verso quel momento in cui l'amore ha mosso il cielo e le altre stelle cioè ha dato origine scato origine a tutto l'universo oggi proveremo a dimostrarlo con prove concrete con l'analisi della collocazione dei santi all'interno dei canti del paradiso la strutturazione delle cantiche abbiamo visto che è fondata sull'equilibrio e sulla armonia ed è infittita di significazioni numeriche e simboliche dante colloca all'interno delle tre cantiche temi e argomenti cercando sempre di creare una sottile corrispondenza con il numero del canto ad esempio nel canto sedicesimo del purgatorio esattamente nella cuore di tutta la divina commedia dante affronta i temi cardini del suo pensiero il problema della libertà il problema del male l'anima che tende verso dio perché l'uomo è creato a immagine e somiglianza di dio la presenza del numero tre presente non soltanto nella forma metrica che è stata inventata da dante ma addirittura nei tre cieli il numero tre costituisce la base dell'intero mondo dell'aldilà nove sono i cerchi dell'inferno nove sono le parti di cui è costituito il purgatorio perché alle sette valse si devono aggiungere l'anti purgatorio e l'eden così come nove sono i cieli del paradiso noi sappiamo bene che i santi non sono collocati nei nove cieli ma sono ubicati nella candida rosa lì nell'empireo dobbiamo sospettare che il numero tre così fondante la divina commedia abbia un valore simbolico fondamentale anche all'interno del paradiso la presenza del numero tre vuole significare che dio è presente ovunque pensate che il primo verso del paradiso recita la gloria di colui che tutto muove e il paradiso si conclude con il verso amor che muove il sol e le altre stelle allora se noi andiamo a ricercare la presenza del numero tre all'interno del paradiso e dividiamo il paradiso costituito da 33 canti in tre parti ovvero dal canto uno all'undicesimo dal dodicesimo al ventiduesimo e dal ventitreesimo al trentatresimo e andiamo a indagare la presenza dei santi in quei sei canti fondamentali che sono l'uno l'undici il dodici e il ventidue il ventitré e trentatré ci accorgeremo che il viaggio di dante è aritroso verso l'incarnazione infatti nel primo canto del paradiso dante è in compagnia di beatrice che è morta l'otto giugno del 1290 beatrice rappresenta la figura che ha portato dante verso la fede la figura cristofora che ha fatto in modo che dante potesse incontrare cristo dante vuole mostrare come per tutti noi è possibile incontrare cristo attraverso il volto dei santi beatrice per così dire la santa della contemporaneità per dante la didache diceva e ammoniva guardate ogni giorno il volto dei santi e traete conforto dai loro discorsi e dai loro sguardi dalla santa della contemporaneità si passa nel canto undicesimo a san francesco uno dei santi fondamentali nella storia della chiesa morto nel 1226 nel canto dodicesimo che apre diciamo la seconda parte del paradiso incontriamo san domenico di guzman san domenico di guzman fondatore dei dominicani è presentato da un francescano ovvero da san buonaventura da bagno regio e san domenico muore nel 1221 quindi ci stiamo avvicinando verso l'anno zero siamo ancora nel tredicesimo secolo nel canto ventiduesimo dante incontrerà un altro santo fondamentale per la storia dell'occidente ovvero san benedetto da nocia che muore nel 547 si apre così l'ultima parte del paradiso nel canto ventitresimo dante assiste al trionfo di cristo e poi nei canti successivi il 24esimo il 25esimo il 26esimo dante dovrà sostenere il suo esame dinanzi a san pietro canto ventiquattresimo l'esame sulla fede dinanzi a san giacomo nel canto venticinquesimo l'esame sulla speranza e poi infine l'esame sulla carità dinanzi a san giovanni evangelista canto ventiseiesimo quindi nella terza parte il viaggio di dante è approdato all'epoca di cristo in compagnia dei santi degli apostoli che hanno vissuto la missione di cristo e l'ultimo canto il trentatresimo si apre con l'inno alla vergine declamato da san bernardo vergine madre figlia del tuo figlio e quindi nella nell'inno alla vergine si parla proprio della incarnazione perché nella ventre della vergine maria si è racceso l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore grazie all'incarnazione è nato anche il paradiso e il mistero dio ha mostrato all'uomo la via della santità l'amore per cristo e il canto trentatresimo si concluderà con la visio dei con la visione di dio e dante a quel punto arriverà a vedere addirittura quell'amor che muove il sole e le altre stelle è anche possibile che dante non stia qui indicando soltanto in un viaggio nel tempo verso l'incarnazione ma addirittura un viaggio che prosegue oltre fino al momento in cui l'amore di dio ha dato origine a tutto l'universo qual è il significato di questo viaggio nel tempo dante ci vuole mostrare come per ogni uomo è possibile incontrare cristo cristo è una esperienza presente cristo è con noi fino alla fine dei tempi e l'uomo lo può incontrare attraverso i sacramenti lo può incontrare attraverso la chiesa lo può incontrare attraverso il prossimo l'uomo può vedere il volto di cristo anche attraverso il volto dei santi che sono compagni di viaggio su questa terra grazie Grazie a tutti.